Perché un video in inglese? Vi starete chiedendo, normalmente io parlo di argomenti di crescita personale, beauty care, self care, eccetera eccetera. Beh, ho deciso di parlare di come imparare l'inglese, quello che serve veramente, invece che quello che insegnano a scuola, perché tempo fa, tempo fa ho fatto dei video che sono andati molto bene riguardo a come imparare l'inglese. Gli ho fatti circa un anno e mezzo fa e ho ricevuto tante visualizzazioni in confronto ai miei video che faccio normalmente e ho ricevuto e ricevo tuttora ogni giorno messaggi e commenti da ragazzi che mi chiedono come poter imparare l'inglese perché a scuola, dopo 13 anni, perché se ci pensate è 13 anni che voi state imparando l'inglese, dalla prima elementare fino a 5 anni di liceo o di scuola superiore, sono 5 elementari, 3 medie più 5 di liceo, sono 13 anni in cui voi state studiando l'inglese e i ragazzi mi scrivono che non si sentono pronti a nemmeno fare un video in inglese o a scrivere un articolo in inglese o anche a guardare un film in inglese. È dunque un peccato perché un conto è insegnare quello che dicono a scuola, quindi la grammatica eccetera eccetera, va bene, però se poi nella vita vera non si è pronti ad affrontare la lingua che non è la lingua più parlata del mondo però è la lingua universale, o al giorno d'oggi è quasi più importante parlare l'inglese di qualsiasi altra lingua, sì lo spagnolo e il cinese ovviamente sono importanti, però con l'inglese ormai ci si capisce praticamente ovunque, è diventato fondamentale saper comunicare prima in una lingua universale, con tutta questa comunicazione globale che c'è, e poi comunicare in una lingua locale, diciamo come l'italiano. Dunque come ben sapete il mio canale è due terzi parlato in inglese e un terzo parlato in italiano, quindi la maggior parte dei miei video, due terzi, due video a settimana su tre, sono in inglese. All'inizio ovviamente e anche adesso il mio inglese non è al 100% come un native speaker, non è come qualcuno nato a Londra o come qualcuno nato in un paese anglofono, però se voi guardate il mio primo video il mio inglese era molto peggio confronto al mio ultimo video e ogni video continua a migliorare, sto facendo delle tecniche, che ho imparato da esperti, ho imparato anche a mia esperienza come imparare l'inglese in modo corretto. Io ho fatto il liceo linguistico, dunque so anche come imparare le lingue e a scuola, vi dico la verità, il liceo linguistico dopo cinque anni è circa il 5% dell'inglese che so deriva da quello che ho imparato a scuola, forse il 10% ma neanche. Tutto il resto deriva da esperienze che ho fatto e che io adesso voglio ricondividere con voi, perché un conto è l'inglese scolastico, un conto è l'inglese che si impara nella vita di tutti i giorni. Quindi volevo darvi dei consigli su come imparare questo tipo di inglese, perché ragazzi è un peccato che dopo 13 anni un ragazzo italiano non si senta sicuro di parlare inglese, almeno per fare una conversazione standard davanti a un video. Dunque anche dopo tutti questi video di crescita personale ho deciso comunque di reindirizzare un nuovo video parlando di questi consigli che posso darvi. Allora partiamo dalle basi. Che cosa bisogna fare per imparare l'inglese? Non c'è molto da girarci attorno, bisogna focalizzarsi sui quattro punti fondamentali di ogni lingua. Anche quando eravate a scuola voi imparavate le lingue così, con listening, speaking, writing e reading. Quindi ascoltando, leggendo, parlando e scrivendo. Dunque bisogna trovare un esercizio, almeno al giorno, ogni due giorni, a settimana, un piccolo allenamento quotidiano in ognuna di queste quattro categorie. Partiamo dal listening. Il listening è forse un po' quello più semplice. Ormai l'inglese dappertutto ci sommerge con canzoni, film, video. Voi potete aprire Netflix e guardarvi un film in inglese, quindi sicuramente il listening è la parte più facile. Iniziate ad ascoltare e a consumare contenuti esclusivamente in inglese. Quindi come canzoni, video, film, podcast. Parentesi, il Marco degli Apodcast è il migliore. Potete mettere i sottotitoli, quindi potete ascoltarli in inglese e mettere i sottotitoli in italiano o anche in inglese vi può aiutare. E le parole che non conoscete potete anche guardarle sul dizionario o su un traduttore. Però ci sono anche addirittura degli strumenti che già vi aiutano, già vi aiutano a farlo. Ad esempio ci sono delle app gratuite e qui mi collego allo sponsor di questo video, Cake, un'applicazione gratuita per imparare l'inglese, l'inglese è quello che serve veramente. L'applicazione è questa qui, come potete vedere, Cake. Che cos'è Cake? Cake è un'applicazione gratuita, un'applicazione per imparare l'inglese, soprattutto in quelle sezioni che sono difficili, quegli argomenti che sono difficili da imparare semplicemente stando a casa con il proprio telefono. Ad esempio vi faccio vedere. Tu entri sull'applicazione, l'applicazione è tradotta anche in italiano, quindi per noi italiani è perfetto ed è proprio per questo che l'ho messa nel video. C'è la sezione Home, in cui oggi e iscrizioni. Praticamente la cosa bella è che utilizza cose di tutti i giorni come video o film, parti di film, parti di video, come video per YouTube, qua vedete tutti questi sono video per YouTube, in cui voi potete cliccare su un video, lui apre il video, e come potete vedere ci sono i sottotitoli. Uno ferma, vede, si può anche abbassare la velocità di riproduzione, uno ferma, clicca e trova esattamente il significato di ogni sottotitolo, di ogni parola nei sottotitoli. Ed è incredibile perché poi uno può anche aggiungerlo, può aggiungerlo al dizionario, può aggiungerlo alle cose che si vogliono ripassare e dunque il listening qua si allena tantissimo perché si può utilizzare sia i sottotitoli ma si può anche esercitare. Come vedete si può mettere in loop e lei continua a ripetere la frase all'infinito finché io decido, finché io magari cerco di imparare anche a usare l'intonazione giusta, provo a ripetere la frase, provo anche a comunicarla in modo corretto, provo ad ascoltarla. Oppure si può fare drill, quindi tenere premuto per vedere quando ci servono i sottotitoli. Dunque è molto utile perché si possono utilizzare queste applicazioni gratuite per imparare anche in questo modo. Tantissime persone mi chiedevano e fatalità, questa penso che sia una delle applicazioni migliori, ne ho provate anche altre, penso che sia una delle applicazioni migliori per imparare l'inglese dal proprio smartphone. Oltre a questa sezione qui c'è anche la sezione per fare degli esercizi, dei corsi per imparare determinato cose, quindi ad esempio come vedete lezioni di inglese, data ora, domande e risposte, come si dice, oppure semplici espressioni consigliate, vedete magari il titolo tradotto e voi dovete dare la traduzione inglese o italiana o viceversa, oppure potete fare la cosa che secondo me è la parte più bella di un'applicazione come Cake, Speak, ovvero voi ad esempio scegliete, non so, l'inglese con Oliver, uno dei tantissimi episodi che ci sono, questo è a livello intermedio, iniziate e lui vi legge questa sezione qua oppure ci sono le notizie, ci sono varie cose e lui la legge e poi voi potete fermare, fare Speak e fare come una conversazione con lui in cui lui al momento dice se la vostra pronuncia è corretta o se state utilizzando la corretta intonazione eccetera, quindi per dopo che parlerò di speaking, quindi della parte di parlare, anche questo è molto utile, quindi ci sono applicazioni come Cake che possono invitare e dopo qua ripasso, si possono ripassare argomenti che si hanno scelto, si hanno fatto e visto in precedenza durante l'app, come potete vedere qui c'è il profilo, potete collegarvi con i vostri amici, potete prendere dei badge, è molto carina, molto simpatica e secondo me è un'ottima app per imparare l'inglese da casa. E questa era Cake, ringrazio Cake per aver sponsorizzato questo video. E con Cake mi ricollego dunque al secondo punto che è molto importante imparare ed è speaking, appunto come avete visto nell'app, speaking è una parte importantissima ed è quella più difficile, tanti ragazzi mi chiedono come faccio a imparare da casa che sono da solo. Beh ci sono applicazioni come Cake, ce ne sono anche altre, ci sono anche degli altri esercizi che si possono fare, ma ci sono anche dei corsi di pronuncia, se qualcuno vuole imparare a pronunciare in modo corretto ci sono dei corsi di dizione, come ci sono in italiano, ci sono anche in inglese, ci sono dei corsi di intonazione, perché ricordate che spesso a volte magari la grammatica la sappiamo, ce la ricordiamo da scuola, ma la cosa che fa la differenza è anche la pronuncia, l'intonazione che abbiamo e quella si impara solo facendo esercizio, quindi con dei corsi con madrelingua online, su Udemy ad esempio o Skillshare, si possono fare anche dei corsi di pronuncia, oppure in applicazioni come Cake ci sono proprio delle applicazioni che correggono la pronuncia al momento. Una cosa che dunque a noi italiani frega molto è proprio sapere utilizzare l'intonazione corretta, quando sono andato a Los Angeles, quando sono andato a Miami, spesso la gente riconosceva che ero italiano semplicemente dall'intonazione diversa che avevo da un madrelingua, quindi imparare a avere l'intonazione corretta è molto utile. Un altro consiglio che vi posso dare, e questo è un trucchetto incredibile, è lo shadowing. Questo è un esercizio che io faccio tutte le settimane, ovvero mettere per 5 minuti, 10 minuti, quanto si vuole, per quanto sia tempo, un video, un film in cui si usa un americano, oppure un inglese britannico, un inglese australiano, l'inglese che volete. Io studio l'inglese americano perché è quello secondo me un po' più pratico, un po' più carino nel momento in cui voglio andare a fare l'attore negli Stati Uniti. Qual è l'inglese migliore? Non c'è un inglese migliore, imparate l'inglese che vi piace di più o in base a dove volete lavorare. Mettere un video e fermare il video dopo una frase, dopo due frasi, è imitare proprio perfettamente l'intonazione, il modo e la pronuncia di quello dell'attore che ha pronunciato una certa frase. Questo può essere tantissimo, quindi imitare sia magari fermando e ripetendo, ma anche magari allo stesso tempo in cui lo dice, per esercitarvi in questo modo. Questo è importantissimo. Il terzo punto è il writing. Writing può essere messo in pratica io ad esempio avevo un blog, adesso l'ho chiuso, leonfire.com, in cui scrivevo in inglese e quindi fare pratica scrivendo articoli in inglese può aiutare tantissimo. Però non tutti hanno un blog, non tutti hanno voglia di scrivere articoli, quindi qual è il metodo? Beh, esistono comunque applicazioni, come ad esempio Duolingo, io utilizzo anche molto Duolingo, sia per imparare lo spagnolo, ma anche io imparo lo spagnolo dall'inglese, quindi comunque scrivo in inglese, quindi scrivere comunque in un certo modo aiuta, applicazioni come Duolingo o anche Cake, aiuta anche se sono esercizi di scrittura. O se no, qual è la soluzione? I social media. Tutti utilizzano i social media, tutti scrivono post, tutti fanno una foto e poi la postano su Instagram, fanno un TikTok e lo mettono, fanno video su YouTube o la maggior parte. Quindi provate nelle storie o ovunque, d'ora in poi, per un po', per esercitarvi, invece di scrivere in italiano, scrivete in inglese. Vedrete che all'inizio sarà un po' difficile, dovrete cercare dov'è che va messa la virgola, dovete cercare qualcos'altro, eccetera, eccetera. Dopo un po', invece, vi accorgerete che scrivete molto meglio. O anche, ad esempio, mentre si utilizza il computer, quindi mettere il proprio computer o mettere il proprio telefono in lingua inglese e quindi abituarsi a vedere tutto scritto in inglese può aiutare, perché poi anche su Google si scrive in inglese per cercare qualcosa e si legge in inglese. E utilizzare, ci sono anche dei plugin come Grammarly, che penso sia gratuita, io ce l'ho, non è sponsor, ma io la utilizzo molto, in cui nel momento in cui si scrive poi in inglese sul computer, lui ti corregge automaticamente la grammatica, dove vanno le virgole, eccetera. Anche quello può essere molto utile. O anche quando si prendono appunti, su questo video, su questo canale c'è tanta gente che è appassionata come me alla crescita personale, dunque probabilmente come me prenderete tanti appunti, reminders, eccetera, promemoria, calendari, scrivete tutto in inglese e quello vi aiuterà molto. Il quarto punto è il reading. Ovviamente per il reading che cosa bisogna fare? Duolingo può aiutare, K che può aiutare, possono aiutare dunque a mettere le cose in inglese, può aiutare a fare ricerche quindi su Google, eccetera, eccetera, mettendo il proprio browser, mettendo il proprio computer in lingua inglese, quello sicuramente può aiutare. Iniziare ad ascoltare, a consumare contenuti anche dai propri influencer, da gente che si segue in inglese, anche articoli di blog in inglese, poste su Instagram caption in inglese, iniziare proprio a consumare più contenuti in inglese. Ma diciamo che l'unico trucco vero e proprio è quello di comprarsi libri in inglese. Io leggo libri di crescita personale e per prendere due piccioni con una fava li compro in inglese. Quindi leggo in inglese, imparo l'inglese, impari anche in modo subconscio e inconscio la grammatica mentre leggi, perché ovviamente sono scritti in modo perfetto, impari dove vanno le virgole, eccetera, eccetera. Magari provo anche a leggere ad alta voce per imparare dunque e migliorare anche il mio speaking. E qual è il libro migliore? Non c'è un libro migliore. Tanta gente mi chiede, Marco che libro posso leggere di grammatica, eccetera. Non ho mai letto un libro di grammatica nella mia vita. Semplicemente dopo un po' inizi come adesso. Io magari posso chiedere a voi tante cose di grammatica italiana. Alcune le sapete, altre non sapete perché è così. Sapete che è così e basta, perché il vostro orecchio si è abituato e la vostra mente si è abituata. E dunque se continuate a consumare contenuti e a sommergervi in un mondo inglese automaticamente il vostro orecchio si abitua e imparate una grammatica corretta senza neanche sapere nemmeno il perché. Anche perché comunque ricordate che 13 anni di grammatica l'avete fatta, anche se non ve la ricordate è comunque in print, è comunque nel vostro cervello in qualche modo. Quindi non serve che leggiate per forza libri di grammatica, anzi leggete un libro che vi piace. Io come vi ho detto leggo libri di crescita personale perché comunque li avrei letti lo stesso. Quindi li prendo in inglese, li compro in inglese, mi sforzo un po'. Magari mi metto il dizionario oppure Google Traduttore a fianco e se proprio c'è una parola o due che sono parole chiavi per capire il discorso e non riesco ad andare avanti se non le capisco, allora le guardo sul traduttore. Se invece riesco ad andare avanti e capire il senso del discorso o anche senza, magari non mi fermo nemmeno. Ecco qua ragazzi, quindi ecco qua i punti, sommergersi in un mondo inglese. Listening, speaking, writing e reading, sforzarsi di esercitarsi almeno un minuto, due minuti, cinque minuti, dieci minuti al giorno, ma anche metter la propria vita, cambiarla dall'italiano all'inglese sicuramente può aiutare. Ovviamente andare all'estero è anche una delle scelte migliori. Parlare con un native speaker sicuramente è anche una delle scelte migliori, ovviamente. Però questi sono degli strumenti anche da casa per impararlo velocemente. Ecco qua ragazzi, questo è l'inglese che serve veramente come impararlo. Spero che vi sia piaciuto e noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!